Baldelli è un obiettivo che sembrava irraggiungibile, è stato raggiunto. Oggi la notizia che si attendeva da tempo per la Galleria della Guinza e la viabilità regionale. Sbloccare la Guinza, quindi sbloccare la Fano-Grosseto, afferma da troppi decenni, è sbloccare le marche, ma soprattutto un'infrastruttura che non serve soltanto a Fano e a Grosseto o alla provincia di Pesaro-Urbino e alle altre province toccate da questa importante arteria. Serve agli interessi del centro Italia, serve a collegare il mare Adriatico con il mare Tirreno, i nostri porti con gli importanti porti della Toscana per dare sviluppo a un intero territorio. Quella terza Italia che troppo spesso è dimenticata nella discussione tra le infrastrutture, troppo schiacciata tra le infrastrutture del nord e quelle del sud Italia. Esiste il centro Italia, lo stiamo dimostrando con pragmatismo e con grande determinazione. Qui va un ringraziamento necessario non solo al Presidente della Giunta regionale Acquaroli che ha creduto in questa battaglia che abbiamo portato avanti, in questi 36 mesi di governo, ma il Presidente di Consiglio Giorgia Meloni, il primo atto che ha fatto al CIPES il 27 dicembre dell'anno scorso, è stato finanziare e approvare il finanziamento per la Galleria della Guinza. Al Vice Ministro Galeazzo Bignami che poco meno di un anno fa era con noi sulla Galleria della Guinza a verificare lo stato dell'arte. E oggi questo grande risultato che attendevamo da decenni e che rende giustizia agli interessi di questa comunità attiva come quella della provincia di Pesero Urbino, come quella del Monte Feltro, ma io dico come quella delle Marche dell'intera regione, degli amici dell'Umbria e degli amici della Toscana.